ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo faccio la previsione con questa nuova serie già iniziata quando è iniziata il campionato 2020 2021 stasera c'è pronostico le partite per esempio vabbè già la sapete però prima prima di continuare con il video scaricate l'app one football link in descrizione le migliori c'è le notizie sul mondo del calcio le trovate su questa applicazione link in descrizione poi continuando con il video fiorentina san padora che fa stasera le 9 meno un quarto penso che la partita viene vinta dalla fiorentina probabilmente dalla fiorentina però non si può mai sapere perché la san padora sicuramente giocherà una partita con c'è una partita bella perché cioè vuole ovviamente vincere o almeno pareggiale perché in queste due giornate non ha vinta nemmeno un non ha pareggiato nemmeno quindi sta ancora a zero punti e quindi sicuramente viene qua per vincere viene fa frenze per vincere ma penso che vincerà la fiorentina un massimo la sampatoria riuscirà a strappare un pareggio poi sassuolo crotone domani alle tre domani alle tre sassuolo crotone penso che vincerà il sassuolo nettamente poi domani ad e 9 meno un quarto udinese roma udinese roma penso che vincerà sicuramente la roma poi massimo l'udinese può strappare un pareggio massimo perché all'udinese ci serve ci serve anche qualche punto atalanta cagliari nettamente vince l'atalanta ovviamente vince l'atalanta parma verona parma verona per me vincerà il verona o massimo perché sta in casa il parma e ci servono anche dei punti perché ancora deve vincere una partita con liberani o uscirà un pareggio vincerà il verona poi benevento bologna benevento bologna una bella partita bella partita cioè bella partita perché un benevento che ha una bella squadra il bologna sta molto in forma qua un pareggio o vincerà il benevento o per me o pareggiano per me poi non so voi come l'ha pensato poi lazio inter lazio inter partita partita equilibrata ma penso che vincerà all'inter se la porterà a casa all'inter o massimo la lazio perché sta in casa potrà portarsi a casa un pareggio poi non lo so tutto può succedere poi milan spezia molto velocemente vincerà il milan molto probabilmente vincerà il milan senza ibbra con ibbra vincerà poi giove napoli gioventus napoli velocemente o vincerà il napoli o pareggerà cioè non vedo non lo so no perché sono un di foto del napoli ma la mia sensazione vincerà il napoli o pareggerà spero ovviamente che vincerà il napoli ragazzi ci vediamo ci vediamo nel prossimo video spero che il video questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina lasciate un bel mi piace ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao